Ciao a tutti, oggi prepariamo un altro bianco fantastico, un bianco di milano. Vediamo l'ingrediente e ora possiamo farlo. Abbiamo usato 500 grammi di farina che ho diviso 450 e 50, 50 grammi di batteria, 250 ml di milano, 1 uova, 1 tispo di olio secco, 1 tispo di zucchero e 2 tispo di salto. Prima di tutto mettiamo l'ingrediente nella milano con il zucchero e il salto mettiamo nella farina. Ora aggiungiamo il zucchero e l'olio. Ora aggiungiamo il zucchero e cominciamo a preparare la farina. Ora aggiungiamo il zucchero e il zucchero e il zucchero e il zucchero e il zucchero. Ora aggiungiamo il zucchero e il zucchero e la farina. and we go head now we divide the dough in four five piece and after we divide every piece in 3 two ponds and we divide by four ponds but we divide by five ponds we divide the dough in half and we divide the dough in half and we divide the dough in half Ora siamo completati con la sede di sesamo. Ora mettiamo il nostro pane in una potenza di bambino, con l'amore. Lo sovrimmo e aspettiamo 1 ora e 30. Deve devono doppiare loro. Dopo 1 ora e 30 sono pronti. Ora mettiamo in l'ovino preghiamato a 180 gradi. A presto. Grazie. Ora spaventiamo 15-20 minuti e dopo lo testiamo.